Le prime notizie di giovedì 7 marzo. Lucio Marzo, il giovane condannato a 18 anni per l'omicidio della fidanzata sedicenne Noemi Durini, uccisa nel 2017 a Castrignano del Capo, ha ottenuto nuovamente la semilibertà per recarsi a lavorare. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Lo scorso anno, quando era in permesso premio, venne fermato ubriaco e privo di patente alla guida di un'auto. Ergastolo confermato per Cristoforo Aguilar, condannato per l'omicidio di Filomena Bruno, la madre 58enne della sua ex fidanzata, uccisa a coltellate a Orta Nova nel 2019. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari. Molestava una studentessa di 14 anni nei corridoi di un istituto superiore di Lecce, arrivando a baciarla e palpeggiarla. Un operatore scolastico ha patteggiato la pena a un anno e mezzo di reclusione con la non menzione. La ragazza, per andare a scuola, era costretta a prendere i tranquillanti, temendo di incontrarlo. Due uomini di 39 e 59 anni sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili dell'omicidio di Bartolomeo D'Ambrosio, avvenuto ad Altamura il 6 settembre 2010. Ai due è contestata anche l'aggravante mafiosa. Un incendio di natura dolosa ha distrutto le strutture di chilometro zero gasolin, noto locale sul mare della Movida Salentina, tra Santa Maria Albagno e Lido Conchiglie. Il rogo ha completamente divorato le strutture in legno e paglia del locale. Mistero a Trepuzzi, in provincia di Lecce, quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro l'utilitaria Atos di un'anziana donna parcheggiata per strada nei pressi del parco Maurizio Rampino. La scoperta è stata fatta ieri mattina, l'attentato è avvenuto la notte precedente. La droga veniva acquistata a Cerignola e spacciata a Vieste con più di 50 dosi al giorno smerciate in un'abitazione del centro storico. Quattro persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari e due sono state colpite dal divieto di dimora ieri mattina in un'operazione condotta dai carabinieri. La cocaina veniva calata dai terrazzi con il sistema delle canaline. E un insospettabile commercialista di 37 anni che avrebbe spacciato cocaina anche nel suo studio è stato arrestato ad Andria in flagranza di reato e posto ai domiciliari dalla squadra mobile della BAT. Il professionista avrebbe ceduto cocaina ad amici anche loro insospettabili. Dopo nove mesi e tre tentativi a vuoto, la maggioranza di centrosinistra in consiglio regionale ha trovato l'intesa sulle presidenze delle commissioni. Al bilancio Fabiano Amati, affari generali e sport Enzo Di Gregorio, alla sanità Mauro Vizzino, all'agricoltura Francesco Paolicelli, lavori pubblici Michele Mazzarano, lavoro e formazione Lucia Parchitelli. Ryanair ha annunciato ieri il suo nuovo operativo in Puglia per l'estate 2024 con 800 voli settimanali su 80 rotte, tra cui 10 nuove destinazioni. Atene, Barcellona, Dobrovnik, Malaga, Catovize, Rodi, Tirana e Tolosa da Bari, Danzica e Trieste da Brindisi. Meteo ci attende una giornata di instabilità su quasi tutta la Puglia, con primi rovesci nella tarda mattinata su Gargano e Tavoliere che dal pomeriggio si estenderanno su Barese, Tarantino e infine sul Brindisino e l'Alto Salento. Temperature in calo, venti in rinforzo da maestrale, mari molto mossi, l'Adriatico e il canale d'Otranto. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.